Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno a tutti ragazzi sono appena tornato da fare la spesa e oggi vi parlerò nello specifico come ho visto dal titolo e dalla miniatura oppremura perché sto morando alla fama ancora e devo fare colazione della mia attuale integrazione del ribellito di bulk ma molto leggero e soprattutto creato per ricercare una ricomposizione corporea. Quindi attualmente ho ragazzi a fare colazione ma prima di fare colazione, prima di uscire ho preso all'incirca un cucchino da caffè di magnesio che lo prendo la mattina e la sera prima di andare a dormire, circa un'oretta, mezz'oretta, tre quarti di ora più o meno prima dei pasta. Questa è la mia integrazione della mattina, un multivitaminico e due capsule di olio di pesce di Omega 3. Beh ragazzi è mezzogiorno e stiamo andando attualmente in palestra, oggi è l'evento di upper body visto che questa settimana posso fare solo 4 split faccio un upper lower, upper lower principalmente con due sessioni di forza, puntate sulla forza che una di queste oggi per il pettorale e poi l'altra sessione la facciamo più per l'ipetrofia e ci concentriamo sulla forza del dorsale. Ma poi vediamo come ragazzi vi spiegherò tutto nelle prossime clip. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.